Fratelli e sorelli, ben arrivati in questo nuovo video, questa sera abbiamo una demo, stavo dicendo già in chat qui su Twitch perché siamo in live su Twitch che le demo ultimamente sono un po' resti a portarle perché non vorrei duplicare i video su TikTok e quindi mette il video demo e poi il video intero quindi ultimamente le sto apprezzando poco queste cose ma questa sera la demo è molto particolare innanzitutto perché duricchia, duricchia un'oretta forse anche un po' di più ma soprattutto perché il gioco in questione verrà tolta la demo tipo domani sera, quindi dura poco e il gioco uscirà tra un anno quindi secondo me va assolutamente capito di che gioco stiamo parlando e che cosa ci aspetterà l'anno prossimo vi dico questo perché probabilmente il gioco sarà veramente una bomba, scusatemi se guardo nella gamba sbagliata ma mentre gioco dovrei guardare lì, mentre parlo dovrei guardare qui ma mi sbaglio sempre, sembro una cretina ma comunque il gioco sembra veramente molto promettente ma dobbiamo aspettare un anno per giocarlo completo quindi ci giochiamo la demo che appunto dura anche un bel po' va bene, fratelli e sorelli? Mi raccomando, mi raccomando, iscrizione, commentino, likeettino se volete supportare i miei contenuti che è molto molto imbottante e ricordatevi che tengo Duganalos, canale Codomo e canale Codomo Live dove metto i giochi interi senza tagli e soprattutto giochi un pochino più variati, mentre sul canale principale c'è solo horror editato ok? Ok, detto ciò, iniziamo sono i salvataggi oh, non lo so, stavano a caso non è che parla in cinese, mo? no, frate, però ascoltami un attimo oddio ma io com'è la cambia la lingua, mo, frate? eccola ma perché è in cinese, frate? ma com'è possibile? ma che cazzo ho scaricato, frate? English, fermi mannaggia la puttana ma tu mi puoi mettere un gioco predefinito in cinese? ma io mi incafaccio a cambiare la lingua ma questi sono pazzi cioè, ma sono veramente pazzi iniziamo a giocare e vediamo un po' sembra essere molto bello grazie Fabri, grazie per i dodici mesi grazie anche a Vinzino per il primone, grazie tesori wake up ma pari mi madre quando dovevo andare a scuola wake up, suoi a te grazie Zingara, grazie per i cinque mesi Picla grazie tesori niente, rimangio quello che ho detto il gioco è altissimo vaffanculo no, lo posso abbassare mi ammazzo c'ho la rotellina però, pezzi di merda ma cosa sta succedendo? no ma che mi pare scorn non ci stanno in italiano i sottotitoli ragazzi ok, forse da qui riesco ad abbassare questo cazzo master volume potrebbe essere request ce lo possiamo fare check leave the room è il mio obiettivo ah si è cagato addosso il signorino peccato peccato vieni alla transition room ma che madonna vuoi dalla mia vita ah capisci che è un bel gioco quando il personaggio riesce a specchiarsi nello specchio riesce a specchiarsi perché solitamente a quanto pare creare i riflessi del personaggio stesso nello specchio è una cosa che la maggior parte dei sviluppatori non fanno perché troppo non sbatti andate una sciacquata va in questo lavandino arrugginito non sta bene il bro perché c'ha una serie tipo c'ha la gasolina che gli esce fuori ma lui sembra l'attore di di Hannibal la serie tv che sono io questo dica è una demo coi contro coglioni il gioco esce l'anno prossimo la demo ragazzi se ve la volete giocare scaricatevela perché dicono che domani sera la tolgono è una cosa molto esclusiva molto è chiusa limitata più che altro dice sono collegata a queste persone unite a queste persone oppure sono altre persone che ehi lascia sta cazzo di foto sono altre persone ehi ma che cazzo è altre persone che stanno qui vivono qui ah sembrava un post apocalittico invece sembra che ci siano delle ma che cazzo c'è un catavoro sullo oh si è aperta la porta non credo che mi farò anti il don remastered sai Joe perché sto già facendo sai lentile che è lunghino e penso mi terrò c'è qualcuno qui find calibration room infatti dicevo il foglio di andare nella calibration mi sembra un ospedale normale sinceramente benvenuto agente speciale per favore si editi hai pin a posto delle cose performing visual calibration non so che caso significa quindi lo tradurremo esattamente così ah ma dai per farti settare la luminosità me lo fai così ma sei a fucking genius ma sto a Mario che figata yes bene non so ho calibrato un po' così ciao John grazie credo che va bene ah possiamo andare avanti che se è super liminal please go to the table l'ho già portato Xion Psalm 5913 l'ho già portato andatevi a recuperare i video su youtube mi raccomando oddio che ha detta signorina audio calibration ah audio calibration the brightest galaxy I've ever seen was a diamond shrouded in ghastly dark blue flames he sank into the dark ocean infoking an apocalyptic wave foolish humans trample over there wow ma se sta tutto da qua mazza figo eh the most enchanting human I've ever seen or a soul as warm as a summer's day a reasonable dynamic range please stand at the mark location va bene per favore stai fermo in piedi sulla sulla X sostanzialmente performing spatial calibration oh wow troppo zoomato a 90 lo mettiamo va bene a 90 assurdo non ho mai visto un gioco un gioco fatto in questo modo good luck on your missions please mi sono persa posto strano find the transition room ah ok devo andare alla transizione e quale cazzo sarebbe freeze room freezer room calibration room ma non c'è posta in the room oh madonna oh ma oh mio ma che cazzo è no raga tipo piante con la serra guarda no tipo piante raga c'è la terra c'è stanno metà in sottoterra e metà aspetta uno c'ha un buco qua c'è uno è uscito è scappato via guardalo oddio sto giocando sto giocando a hit sto giocando a hit è incredibile ma ma ce n'è uno fuori guarda c'ha gli stessi buchi sui come ce l'ha lui coi tubi transition room ehi tu ha detto di fare qualcosa per lui ma non ho capito che cosa stinking pile deal with the corpse forse vuole che riposano oh cristo ma non era morta prima è deceduta ciao safona ah no aspetta dove ah ma forse lo devo rimettere qua dentro nella pila di cadaveri pile diceva infatti che non era una cosa per coprirsi no nella pila regà è schiattata è schiattata non so come mai ma è schiattata schiattata enter the transition room spingi la porta vieni dentro quando sei pronto lui è strano però ma raga ma che cazzo lui è terrorizzato è disorientato entra gli dice mi sono svegliato in quella stanza chiede spiegazioni sostanzialmente lui gli dice non c'è tempo per le spiegazioni sediti su questa sedia chiaramente cerco di farvi le traduzioni nel sunto così che non perdiamo troppo tempo sono piccoli sottotitoli e mo li aumentiamo la cosa più importante è che devi andare fuori non tutti devi andare fuori di questo aspettate chi sei cosa ti faccio con me perché non mi ricordi qualcosa non sai chi sei mamma mamma non ti racconti I have no idea what the hell you're talking about. Who the hell is Mother? I swear to you, I don't know a thing about you. But that's impossible. For half my life I have been selling her. One after a while. You have never succeeded. None of you have. I put in so much effort to leave messages on the other side that none of you seem to care about them. Listen, this might be a misunderstanding. There were things I can't call to mind. I arrived here by accident. I can't be one of those people you speak of. Right? I cannot. I am trapped here forever. Storia contorta è? Oi. You're saying you lost your memories? Yes. That's what I've been trying to tell you. I woke up in a room, passed through calibration and ended up here. Lui sta dicendo ma com'è, ma madre non ti ha detto nulla. C'è una trama un po' complessa. Faccio difficoltà a ricordare quello che ha detto perché ci sono tante cose. Addirittura a passare attraverso darkness ha detto, non mi ricordo. Troppe informazioni. Dice che lui sembra diverso dagli altri. per le persone inutili là fuori. Tutto quello di cui si preoccupano è fare i loro lavori. Però dice forse tu hai avuto successo. Passare nell'abisso, grazie, abisso. Dice che non si ricorda più niente. Dice che c'è avuto un incidente e stai risvegliato qua, ma non si ricorda più niente. Deve ricordare i suoi reali ricordi. E lo farà tramite questa cosa che gli ha dato. Mi rivedrai, mi rincontrerai dall'altra parte, gli ha detto. In una forma diversa. Buona fortuna, Daniel. Forse è meglio che cerco di tradurre un po' alla volta, se no mi scordo quello che dice. Troppa informazione. No, non si sa niente, raga. Questo è proprio il tipico gioco che c'è una trama complessissima. Tutti corpi. Sembra chiaramente un posto dove fanno esperimenti. Scusate, è a basso, perché se no, se capiamo un cazzo. Dico, sembra veramente un posto dove fanno esperimenti. Perché come avete visto ci sono tutti i corpi uguali a lui. E come vi avevo fatto notare, lui ha dei puntini sulle braccia, esattamente come li avevano questi tizi dentro la terra. Però lui dice, è impossibile, nessuno ha mai avuto successo. Nessuno succeeded, non so se è riuscito, tipo una cosa del genere. Sembra un po' Matrix. Ma sta cosa di madre mi ricorda un po' qualche altro horror, ma non mi ricordo quale. se vi viene in mente, ditemelo. Ciao, Robus. È una demo di un gioco che uscirà tra un anno e la toglieranno domani, a quanto ho capito. Si chiama Karma, con la K. Quello dello zoo, è vero. È vero, quello dello zoo c'aveva la madre. No, l'ho abbassato perché sennò quella consona non si sentiva anche questo. Vi dà un po' le vibes di Scorn pure. Madonna, strambo. Karma, ragazzi. K-A-R-M-A. Un po' alieno. Un po' esperimenti, un po' alieno. Grazie, Stewie. E dove dovrò andare? Find a suitable item for synchronization. Trova un oggetto adeguato, credo, per la sincronizzazione. Forse è questo. Ah, da indossare. Grazie, no way. Dove l'ha riportato? Adeguato? Vabbè, avevamo capito. Non può essere, perché questo è qui? Ma lui si ricorda di essere soldato, l'era aspettato. Allora, capito? Allora, come si troppo. Ora, mi porto l'ho a fare il corpo a questa volta. Tu ti prendi i soldi di scorni. Entravo, professore. Mi sento che il corpo è ancora mutato da la daclame injection. Daclame? Ci dovremo fare il nostro bene per contare il testo. Entravo. Professore, ci c'è una forma di liberare il corpo da questo grande corpo? No. Che cazzo è sta roba? Stavo ascoltando comunque nel registratore loro che stavano facendo esperimenti No frate io me ne vado Io guitto Flee from the monsters Che cazzo è Flee? Che cazzo vuol dire Flee? No frate Scappa dal mostro? Ma come minchia scappo scusami ma dove vado? Non conosco niente Non mi fa nascondere bro Mannaggia la mignotta ladra secca Perdona me No je ne vado Vai frate io me ne vado Ma che fa? Ma che cazzo fa? Devo scappare? No 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 frate Ma che cazzo? Ma non corre C'è che cazzo? Vai shifta non corre il fratello Non corre il fratello zi Non shifta Non shifta Non c'ha allenamento il bro Apro così? Si è chiuso automaticamente con Ehi le blatte Ormai niente Perché il mostro è di nuovo qui? Che vuol dire di nuovo? Ci sono delle lampadine Sicuramente è una cosa molto normale Che ci sono delle lampadine dentro a un condotto Normalissimo Perché me lasciano sta dice? Non so fratello Dico solo me Fai un po' venita a vomitare Questo Frattino Molto carine Ti fanno sentire proprio a tuo agio Le lampadine Guarda Troppe forse adesso Grace Aspettami Ma che mo' Che cazzo è Grace? Scusami Non credo si possa passare Ci sono delle meravigliose medicine? No 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 Ok 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 Ma è sempre più schiacciato È una mia impressione Buon anno ragazzi Tanti auguri Io continuo a seguire loro O me ne vado? Voglio fare Voglio fare la diversa Voglio fare Voglio fare la matta in cu Read Rumor Ventilation duct Grazie mille Viviana Levati Non era perché levati È perché te chiami così Ma grazie mille per i 16 mesi A chance to get more blue battles At 23 o'clock Very Thursday night Bring any object of value To the loyalty party To the 3 main street To exchange it For blue battles Based on the value On the objects You've bought Che sono queste blue Blue battles Eccole Le blue battles Sono queste Dovrebbero essere Dice che c'era una roba Che potevi scambiare Per ottenere le blue battles Ma non O dovevi dare le blue battles Ho letto di fretta Non mi ricordo Comunque Boh Chissà che cosa saranno Seguo le luci Sono molto simpatichelle Queste luci Effettivamente Io voglio sperare Che non dobbiamo scappare Da quel pazzo Ogni volta Si sono spente le lucelle Buonasera ragazzi Ben arrivati Ben trovati Il programma della serata È fare questo gioco qui Che è una demo Di un gioco Che uscirà l'anno prossimo E poi andare un pochino Avanti con Silent Hill Ok Grazie Stewie È un cane vero? È un cane Obey Regà A me mi ricorda Un altro gioco horror Che ho giocato Non mi viene in mente A parte The Mother Con lo zoo È ok Ma c'ha delle cose Di un altro gioco È molto surreale Sì Molto Equipment Disposal notice Employees have recently complained That some equipment Is malfunctioning Please any equipment With display issues Such as a color Design Disposal area All that is not working Shall be discared Be it humans Or machines Stay healthy And work hard Dice che ci sono Delle 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 Equipaggiamenti Che non funzionano E se non funzionano Di darglieli Cioè in qualche modo Di Di fare attenzione Ai segnali E di darli indietro Molto carino Questo cane Non vivo Un'altra lettera Che gioco strano I've been seeing A creepy young man Around lately Is it the new intern My mental state Is really The TV rating I've drunk Six Ma stavo leggendo Ho bevuto troppe Blue bottles Aveva detto Ma perché me sono culata A televisione Date omette Perdonatemi Che so ste margherite Boh Che cazzo è I flashback del Vietnam Che gioco strano L'ho già detto Oddio I canetti Sono pazziti Oddio i canetti Sono pazziti Ma no Volevo leggere Quello che c'è Ma chi è sta gente Ma chi so ste donne Pure uomini In realtà Oh beh Oh I'm Udo I've worked At Winston Institute For a long time Joining Leviathan Corporation Was the best decision I ever made And I've never regretted For the rest of my life Sono Udo Sono una lavoratrice Qui al Winston Institute Da tanto tempo Unirmi alla Corporation Leviathan È stata la miglior decisione Che potessi prendere Non me ne pentirò mai Per il resto della mia vita Mi suona un po' Falsa Come cosa È veramente strambo Questa roba mi inquieta Ancora di più Di qualsiasi altra Ma poi guarda No frate Non ve ne avrete accorti Io me ne so accorti adesso Ammo chi cazzo è questo Questo è Andrew Secondo me prende ispirazione Dalla trama di Assassin's Creed Nel presente Un spunti horror Ma non capisco Dobbiamo sorbirci Tutti questi cacacazzi Oh i canetti Sono impazziti Ma non si può Non ricchiappare i canetti Delle scarpe Delle telecamere Dei cani Fuori di testa Questi cani Questi pulsanti Che Ma che cosa Me ne strafrega Di Klaus Santa Klaus I want to thank Leviathan Corporation For all blue battles It has helped me Secondo me Ha una trama Molto simile A Fallout Molto simile A Fallout Per alcuni versi I don't think I can ever live Without it Senza le blue battles Eh Oddio raga Sti cani Mi mettono l'ansia Te giuro Te giuro Assassin's Creed Tutti questi volti Incredibili Ma devo leggere Tutte queste griste I'm at it I've always enjoyed My work Work gives me hope Mi fa piacere Stanno tutti a scrivero L'ultima Penso I'm Amelia I like this Working Environment Everyone is always Working so hard As if nothing Can distract us From doing Our own work Io mi chiedo Mi domando No Nel senso Ma mo Che chiesto Se vuoi Feni Allora Di qua Non mi fa Interagire Con nulla Guarda Una porta In realtà Magari posso Entrare Nella porta Ci sono Degli orari Eh Numita Non sempre Faccio le storie Ma questa Era già Aperta Prima Si muove Un po' Troppo Il fratello Eh Non è Mai aperta Non mi fa Aprire Perché Non mi fa Aprire Io che Volevo Leggere Le foglietti Dei cani Addosso Invece Ciao Ghost Peep Becker Sgic Sganalic Però è molto Disturbante Sarebbe Anche Interessante Interessante Sapere Che cazzo Devo da Fa Potrebbe Essere Una cosa Interessante Obey Obey A ogni Ora Tra l'altro Stato Deobey È la trama Di un Film Molto Vecchio Hai In zio Perito And I Love Scream Leva Di zio Pera Forse ci manca Un pc Non credo Penso di averli visti Tutti Lui l'abbiamo Visto Il ceo Dom Sto 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 Ma non Credo Non si Apre la Porta Come mai I cani Mi fanno Ridere A me Mettono L'ansia Zie No Lui L'abbiamo Visto Buonasera Ovviamente Sono connesa Ciao Fabri Questa L'abbiamo Letta Vero Sì Dice Lo scanner Che si muove Da Da Solo I posti Del corridoio Però Ma l'abbiamo Visti Tutti Questi Emilia Emilia Levate Dal Cazzo Vabbè Niente Vieni Strafatti Si chiama Karma È una demo Di un gioco Che uscirà L'anno Prossimo Evelyn Pure Pure Evelyn L'abbiamo Giusto Oddio Evelyn L'abbiamo Vista Forse No Forse No Forse No Forse 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 No Riga Mi sono rifatti Tutti C'è il cazzo Qua Per ora Ci sono Altre TV Da buttare Non mi pare Non mi Da niente Dice Di guardare Franco Di guardare Nel corridoio Non so Che devo Far Adesso C'era Be aware Of a television Announcement At this Press Press the ink To refill After Every Three Stamps Oh Oh Non è che sabbia che non avevo male io? Non è possibile? Levitan Corporation Short notice Restricted for office You're only Based on the needs of Levitan Core The company has made the following decisions And arrangements Will now be converted To work days And will not be recorded Over time For purpose of payroll And salary People and prizes Massa quante pappardelle Che c'è stato attaccato Treius Poi è tutto in inglese Reminded that we've been on attention On the side of promotion To do the challenges The worst kind of And additional time Che c'è stato attaccato Che c'è stato attaccato Che c'è stato attaccato Non mi legge Ragazzi Oh merda Oddio Devo fargli stamp Non ho capito Che cazzo sto a fare Tre E non mi fa uscire Però E' il posto fisso Che vorrebbe mi madre Vabbè io continuo Frate Questo mi fa Mi fa timbra Cioè io vado Ma quanti cazzo Ne sta a fa' Ma possiamo uscire Ok Gnava più No Ale Oh Mando cazzo timbri Guardalo Leva Sto cazzo Di timbro Zio Atreius Prenditi a blue bottles Drogati Dai Su Grazie Gianni Grazie Picla Ah Mo' sta una crema Può continuare a timbra I foglietti Via Quanti 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 Tenete in bravo Ancora Avrete Gli vamo tutti Zii Più Prenditi in bravo Prenditi in bravo Prenditi in bravo Tu Barri No emotions Più che emotions È proprio Stanchezza Che Tutta la sinistra Dici Ti stai esauri Oh Oh My god Oddio Ogni La fa più Guarda Sto muorendo Arricchiappa Sto cazzo Di blue bottle Va Call this number Now to reach out Diventa tutto Una merda Poi lui beve Tac E' una bomba Che è piano Però non riesco a leggere Non riesco a leggere Rega We believe that you will have a wonderful and productive day Unexpected communication Interruption Non si è Hanno detto tipo diventano sempre di più Sì esatto Però stanno anche dicendo attenzione Sto facendo delle avvertenze Ma non riesco a capire perché Perché è troppo veloce la scritta Sta piangendo Stava piangendo Stava piangendo Corello Don't drink it Ogni tanto vengono fuori delle Delle cose Capito Delle Piange perché lui è l'unico che lavora A quanto pare non smetterà di lavorare molto presto Dice esattamente quello che vogliono Dice esattamente quello che vogliono Che tu ti beva sta cosa Ma non puoi smettere Oh mio Dio Assurdo Ma trama con torta Merda For the rights personal only Please destroy this document According to the procedure After reading Do not circulate Increase the concentration Of SH507 In blue Battles are Requested Requested This drug Alters the transmission Of monoamine Neotransmitters Induce Hatent Focus On Obedience While lowering The sense of fatigue Quindi capito E' una circolare Da non far circolare In realtà Che deve essere distrutta Dice Che va incrementata La concentrazione Di SH507 Nelle blue battles Come richiesto Questa droga Altera La trasmissione Del neurotrasmettitori Monoamine Non so come si dice in italiano Per indurre Maggior focus E obbedienza Mentre Abbassa Il senso della fatica According to the result Of the company Dice che hanno riscosso Comunque un aumento Della produttività Del 38 A 38% O virgola 2 Dice che comunque Ovviamente come ogni Drug medicina In realtà Drug In America Dicono Cioè intendono Anche medicina In generale Ovviamente ha Degli effetti Indesiderati Include Moderate Addiction E dovrebbe essere Tipo Una moderata Dipendenza Il soggetto Potrebbe presentare Ansia E irritabilità Una volta Che la droga O comunque La medicina È smaltita È smaltita Di droga È farmaco Però non è un caso Che drug Lo dicono Droga In realtà Perché In America C'hanno un grande problema Di droga In qualche modo Secondo me È la medicina Comunque Grazie Sasi Grazie mille Per la Subzone Siamo tornati indietro Non so se voglio tornare indietro Frate Ciao fratella Sorella Buonanotte I pensieri di persone Che lavorano in questo posto Non c'è semplicemente speranza Questo è dipendente dalle Blue Battles Sbrigate da altre Blue Battles Grazie Michele Grazie Viclo Perdonami Che madonna ci metto C'è una sega qua Grazie Orlo Grazie per i 24 mesi C'è un televisore nuovo Che bello Con tutti i post-it Help Ho scritto aiutami Leave the airspace Abbiamo preso una televisione La spaccamo qua Non credo che si possa aprire Ahia Mettiamo un testa Mettiamo un testa Mettiamo un testa Mettiamo in der testa Fermi Normale Chi? Chi? Uè Dalla parte Posso far Di qua Cazzo Merda Madonna La Craustofobia Non mi volterò Non mi volterò Ho cliccato il mouse e è uscito fuori Così? È una casualità? C'era l'uscita Oh mio Dio Cristo Forse dobbiamo sapere Marca mignotta Dio che infarto Cristo in Dio Che cazzo Te trip è sto gioco No frate Aiuto proprio Ma non è che sono andata in bocca al mostro? Ma quanto corri? Dio che è? No Ma frate Mi viene un infarto secco Eh È faster Ma vi ste cazzo De gambe Che non te Non vai faster Non vai faster Non fasti Non fasti Non fasti Dimmi che sto salva No 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 Non ti uccidami Non ti uccidami Non ti uccidami Non ti uccidami Madonna Che delirio Anche tu l'hai visto Quella cosa è reale Prima che tutto questo succedesse Era lo stesso mostro che t'ha preso la gamba Che ha detto Mi hai preso già la gamba Vedi tutti pensano che sia pazzo Me incluso Questo mostro mi ha fatto perdere il mio lavoro La mia famiglia Ho fatto cosa di terribile Aspetta non c'è cosa significa bitter Non importa comunque ha detto E non ho fatto un tappare E non ho fatto un tappare E non ho fatto un tappare Tutte reali Vuole che E proteggere i figli Mother è tutta sta roba dei server Cazzo è Russian pen E dove rimettere sta cuffietta? No madonna non ci sto capincazzo manco io E' vero che è una demo eh Però santa madre La trama è veramente un casino Che altro perché E' molto veloce Dice un sacco di informazioni Se non fai in tempo a stare dietro a Cazzo è finito Se non fai in tempo a stare dietro a Quello che c'è scritto Magari te te perdi capito Jeng Li Queste canzoncine sbragate Era una demo raga Questo gioco uscirà tra un anno Ma secondo me sarà un gioco della madonna Gioco veramente Bello intenso Sì secondo me si Non sarà un gioco semplice La trama sarà mega contorta Si vede già Anche la giocabilità mega contorta Sembra molto figo Poi c'è che lui si affaccia E vede il corpo Il corpo sdraiato Ma che dè Bisogna aspettare comunque un anno E' comunque secondo me Un gioco pesante Nel senso che Ciao Perone buonasera Un gioco pesante Nel senso che comunque Sarà anche un po' Una critica sociale Tutta sta cosa Del Dei lavoratori Le pillole blu Che non so Quelle per Viagra Che pensate voi Che aumentano le prestazioni Chissà dove vuole andare a parare Comunque sicuramente Sarà un gioco pieno Pieno di significato Pieno di cose da fare Pieno di trama Si penso che lo porterò Penso sicuramente lo porterò E' uno di quei giochi Stile Silent Hill Nel senso che c'ha una trama Molto C'ha sicuramente una trama lunga Sicuro Sicuro nel sociale Si Allora adesso iniziamo Silent Hill 2 Facciamo una rete Silent Hill Così andiamo un po' avanti Lo aggiungiamo al gameplay Attenzione Poi c'è che è sto posto Mi sa un po' tipo di Bioshock Sta roba così un po' Capito? I tizi con le televisioni In testa Sti sono anticipazioni Trama da cinema Secondo me O da serie tv Comunque Saranno mostri Dio Posso vedere C'è sempre una bionda Con i capelli a caschetto Ma basta C'è sempre una bionda C'è sempre una bionda C'è sempre una bionda Caricatevelo Mettetevelo in libreria Se ancora non l'avete fatto Non so se lo tolgono Anche se ve lo siete scaricati Comunque Bello Bella demo Contortissima Si è capito un cazzo Ma si è capito che comunque Il gioco è bello È bello pieno Bello pieno De tutto E sicuramente ci ha messo hype Per giocare Poi quando sarà Dicono l'anno prossimo Il gioco completo Ma non so minimamente Quando uscirà Tra l'altro Come al solito Non hanno fatto pubblicità Comunque io Me lo so un po' perso Me l'ha detto Franco Ha detto Guarda che c'è sta demo Figa Vedi che esce tra un anno Insomma Staremo a vedere Staremo a vedere Promette bene Devo dire che promette bene Staremo a vedere